Con noi Giovanni Mafrici di Reggio a Canestro a pochi giorni dalla partita del Palacalafiore, gara uno dei play-out, Scandone contro la Viola Reggio Calabria, qual è l'umore che si respira nell'ambiente arancionero? Sì, nell'ambiente di Reggio Calabria ovviamente di chiuderla il prima possibile, anche se andiamo a guardare i dati, Avellino se non avesse avuto la penalizzazione avrebbe chiuso con due punti su Reggio Calabria, ricordiamoci che Avellino ha vinto Reggio Calabria nella fase d'orologio, quindi i dubbi, le incertezze persistono, però Reggio Calabria è una squadra che ha perso tantissimi punti per strada negli ultimi minuti delle sfide, se l'è giocata un po' ovunque, eccezione fatta per qualche giro a vuoto, come per esempio a Nardò, e poi per il resto è una squadra forte, quadrata, che può far bene, magari un po' corta, anche rispetto a Avellino, che nonostante le tre partenze, Marzaioli, Ragusa e Brunetti, è pur sempre una squadra molto combattiva, specialmente sugli esterni e specialmente con il gioco in contropiede. Ci sarà un ex che è Valerio Costa, che conoscete molto bene, è un classe 97, che in pochi sapranno che da bambino, proprio nel suo percorso cestistico a Reggio Calabria, venne mandato in prestito alla Stella Azzurra Roma, vinse un torneo giovanile, venne inserito nel miglior quintetto, in questo quintetto c'era anche Luca Doncic, Stella NBA adesso, ai Dallas Mavericks. Per quanto riguarda, insomma, Reggio Calabria, si spera di recuperare Marco Prunotto, dopo un lungo, lungo stop arcinoto dalle nostre parti, poi per il resto, rispetto alla gara di fase orologio, ci sarà Jan De Fall, assente nella gara della fase orologio, che è il re dei rimbalzi, ed era stata in quell'occasione un'assenza realmente fondamentale. Giovanni, dunque, reputi la Viola una compagine che può addirittura battere Avellino nelle tre gare, un secco 3-0. Qual è il pronostico di Giovanni Mafrici? Se io dovessi giocarmi qualcosina su questa sfida, non andrei a giocare nulla, perché è imprevedibile, perché Avellino e il suo coach Rodolfo Robustelli hanno dimostrato in più di un'occasione di essere una squadra totalmente imprevedibile. Idem, Reggio Calabria, che ha delle certezze, Genovese ma scherpa su tutti, ma purtroppo ha dimostrato molte volte che quando il gioco si fa duro, quando conta, tra sfortune, infortuni o mancate reazioni, come è accaduto contro la Scandone, ha compiuto dei giri a vuoto. Quindi io dico imprevedibile, è chiaro che partire col fattore campo dopo gara 2 sapremo realmente come può andare a tenere questa sfida. E infatti poi giocare ogni tre giorni non è semplice per nessuno dei due roster, soprattutto quando la posta in palio è così alta. Il piccolo aneddoto è che quattro anni fa lo stesso staff tecnico della Pallacanestro Viola era un'altra società, anche perché anche da queste parti, se a casa Scandone ne leggete e ne scrivete tutti i giorni, tutti i colori, dalle nostre parti se ne sono viste tantissime in questi anni. Scandone, ora è una società nuova totalmente costruita dal volere dei tifosi e ripartita dall'acquisto del titolo sportivo di Serie B, dopo aver giocato in Cisilver. Stavo dicendo, lo staff tecnico è lo stesso, Bolignano e Motta, che ottenne la salvezza quattro anni fa in Serie A2 contro Chieti. È ironia delle sorte, in quell'occasione si partiva senza il fattore campo. Vinsero a Chieti e poi fu tutto liscio. Dunque, pronostico Giovanni, non ce lo fai. Dunque, domenica si apre questa bellissima serie. Valerio Costa lo ha detto nella nostra intervista che sarà una serie spettacolare. Secondo te sarà così? Saranno gare tirate fino all'ultimo sul filo dell'equilibrio. Secondo te o il divario tecnico potrà venire la distanza? Secondo me Reggio Calabria ha tutte le carte in regola per vincere le gare in casa, però ovviamente deve partire col piede giusto fin dal primo quarto. Avellino ha dalla sua un'esuberanza, un'effervescenza fuori dal comune che le ha permesso di combattere e di vincere in campi dove sinceramente in pochi avrebbero pronosticato nulla. Quindi io il pronostico non te lo faccio, anche perché Avellino è una squadra completamente imprevedibile, quindi mi aspetto uno 1x2 come dicevano gli antichi.